Due spettacoli in scena in doppia tournée e il momento d'oro per l'attore nisseno Rosario Petix in giro, per i teatri italiani con uno Shakespeare Hamlet con Giorgio Pasotti e Mariangela D'Abraccio e l'Enrico IV di Piranderlo, per la regia di Gianni Scocos con Sebastiano Lomonaco. Una carriera tutta in discesa adesso per Rosario Petix che si prepara ad una sceneggiatura per il cinema. Intanto il suo corto La Cosa Giusta dopo Venezia farà il giro dei festival in estate. Poliedrico, versatile, serio e comico, intenso e leggero, Rosario Petix è una faccia tragica che può regalare mille sorrisi dopo un istante. Uno dei talenti locali che porta alto il nome della provincia nissena in Italia. Ha deciso al momento di dedicarsi al teatro dopo un periodo di fiction e film. La sua partecipazione ad una serie di squadra antimafia, il lavoro più conosciuto. E poi resta memorabile la sua battuta ad una fan che gli chiedeva ma lei non è quello di squadra antimafia, sì sono io e come muoio io nessuno. Ma non è stato solo cattivo, ha interpretato immensamente anche il buono di carte false. Gerardo Marrone, un uomo che ha salvato tanti ebrei e poi lui stesso fu portato in un campo di concentramento e li morì. E' lo spettacolo tratto da una breve scrittura di Salvo Toscano, una storia tanto tragicamente attuale.